dopo l'afa i temporali domani allerta arancione incendi sul san bartolo arriva la telecamera per prevenirli a gabice gradara arrivano ascensori per accedere ai borghi fervono i preparativi per il roff concentrato alla vitrifigo arena nella notte di san lorenzo la magia di candele sotto le stelle buonasera a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati sul canale 80 ben ritrovati a rossini news il nostro spazio informativo della sera che in questa edizione di giovedì 3 agosto apriamo parlando di meteo dopo un luglio che è oscillato fra bollino arancione e rosso per temperature stabilmente sopra i 35 gradi fra domani e sabato è preventivabile un importante calo termico compreso fra i 7 e i 10 gradi in meno andando anche al di sotto delle medie del periodo sono in arrivo rovesci temporaleschi e non è da escludere anche un rischio grandine la protezione civile delle marche ha in tal senso emesso un bollettino d'allerta arancione per temporali fra le ore 12 e la mezzanotte di domani venerdì 4 di agosto e fra le tematiche atmosferiche di questo periodo estivo c'è sicuramente l'allerta incendi un rischio che si può provenire anche grazie alla tecnologia come ci mostra il nuovo dispositivo video installato sulle parco san bartolo questa è la seconda telecamera l'altra è stata montata ai cantieri rossini di pesaro e quindi con questa gabice qui al mississippi abbiamo coperto tutta l'area e chiaramente dovrebbe scongiurare gli incendi per molestando che con un incontro fatto anche in prefettura ci hanno dato altri suggerimenti e altre cose da migliorare da modificare del parco va nettamente migliorata inizieremo a lavorare da fine stagione prepararci in maniera programmata per l'estate 2024 e quindi dovremmo anche ragionare sugli invasi come ci ha chiesto la prefettura dovremmo risolvere il problema della tra virgolette della mondezza che gira e quindi ripianificare tutta una serie di attività per evitare gli incendi e migliorare anche diciamo le visite di turisti che trovano un posto bello ma anche ben tenuto fine estate presenteremo il programma dei prossimi cinque anni e partendo sulle priorità e anche sui tempi tecnici per realizzarli perché purtroppo con la burocrazia che c'è i tempi si allungano e quindi dovremmo mettere in cantiere diverse iniziative e realizzarli mano mano che si possono realizzare noi siamo molto orgogliosi del nostro parco che è un gioiellino che aggiunge valore alla nostra località che vive di turismo ecco questa telecamera la tecnologia per fortuna va avanti ecco questa nuova tecnologia ci permette di monitorare il parco e segnalare sul nascere i principi di incendio quindi una ottima opera preventiva per la tutela del sabbartolo non dobbiamo abbassare la guardia e comunque non fidarci solo della tecnologia ma puntare anche sul la collaborazione di tutte le risorse coinvolte mi riferisco alla protezione civile vigili del fuoco guardie caramiglieri forestali ma anche gli stessi fruitori del parco e gli sportivi ciclisti o quelli che fanno trekking comunque possono dare una grossa mano nel aiutare a prevedere questi fenomeni segnalare situazioni critiche ecco ed ora ci spostiamo a pesaro dove continuano le proteste per l'installazione del ripetitore telefonico da parte della società inuit in via beccaria in zona muraglia un'antenna che è stata attivata il primo agosto nonostante la raccolta firme le ripetute proteste e gli appelli al comune domani ci sarà un presidio di residenti preoccupati che l'accensione dell'antenna possa protrarsi oltre i 120 giorni postulati per l'attivazione del ripetitore intanto come potete vedere un video segnalato ci da una nostra telespettatrice documenta anche l'effetto audio di disturbo che questa antenna ha durante l'orario notturno il questore di vicenza ha emesso il provvedimento di daspo per un anno ai due genitori di una calciatrice della jesina femminile residente a montbaroccio che erano stati protagonisti di insulti razzisti ad una calciatrice del vicenza rafiat sule durante la partita di serie b femminile vicenza jesina dello scorso 15 gennaio una storia che aveva fatto il giro del web sollevando un'ondata di indignazione ora il daspo prevederà l'interdizione da tutte le partite di calcio di ogni categoria maschile e femminile per la durata di 12 mesi i comuni della nostra provincia di gabice mare e di gradara oltre a quello di fermo sono stati premiati con un contributo dalla regione marche rivolto al valore dei loro progetti in ambito di risalita urbana che favorirà attraverso l'installazione di ascensori l'abbattimento di barriere architettoniche e l'accesso ai borghi storici abbattere le barriere architettoniche e al contempo favorire l'accessibilità ai centri storici anche in chiave turistica a fronte di percorsi spesso disagevoli o di parcheggi ridotti e distanti va in questo senso il contributo di 4 milioni di euro attraverso il bando della regione marche che premia i progetti per gli impianti di risaliti in ambito urbano all'insegna della qualità a essere premiati gabice mare gradare fermo la regione molto soddisfatta perché finanzia tre risalite di qualità in tre città della nostra regione gabice gradara e fermo che si aggiudicano i 4 milioni di euro complessivi per queste risalite per l'abbattimento delle barriere architettoniche per valorizzare le bellezze dei nostri comuni e soprattutto comuni turistici perché premiavamo coloro i quali avessero presentato alla regione un progetto in infrastrutture di qualità che avessero appunto l'obiettivo di rendere più accessibili i nostri comuni questo vale per i comuni della nostra costa ma anche per i comuni dell'entroterra che abbiano un grande appeal turistico quindi le infrastrutture con il fattore Q il fattore qualità al servizio delle bellezze del territorio e al servizio dei nostri comuni più turistici della nostra regione fermo realizzerà il collegamento fra via mamiani piazzale del girifalco con due ascensori panoramici per un milione 675 mila euro gabice mare realizzerà invece un progetto di riqualificazione e valorizzazione del lungomare con un ascensore panoramico del valore di 2 milioni 800 mila euro noi andremo a fare un intervento che avevamo già programmato nel piano per repubbliche di quasi 3 milioni di euro in cui andremo a fare questo collegamento verticale tra la parte alta e bassa del lungomare quindi la parte alta dove sono una parte degli hotel la parte bassa che aveva sempre avuto necessità di avere un collegamento e oltre a questo collegamento quindi sarà proprio una discesa mare questo è un intervento che andrà a risolvere tutte le problematiche legate anche alla necessità di eliminare ogni barriera architettonica quindi in modo da rendere più omogenea più fruibile a tutte le persone con disabilità ma anche pensiamo alle famiglie con bambini eccetera proprio per eliminare ogni forma ogni barriera architettonica quindi andare incontro alle esigenze di quelli che poi sono i nostri flussi turistici che vada dall'anziano al bambino alla famiglia e quindi necessità che era ben sentita quindi è stata un'ottima opportunità per il nostro comune avere avuto la possibilità di partecipare a questo band e aggiudicarsi una cifra importante che andrebbe a coprire una quasi un 40 per cento del totale dell'investimento gradara si aggiudicata il contributo regionale grazie al progetto del valore di 4 milioni e 600 mila euro per la realizzazione di due ascensori inclinati per collegare il parcheggio di scambio di via di sotto il bosco con il castello abbiamo un collegamento piuttosto importante perché andrà a mettere sistema il nuovo terminal autobus che verrà realizzato ai piedi della collina di gradara dove convergeranno tutti circa 1.500 arrivi annuali di autobus e collegheranno quindi gli utenti di questi autobus con il centro storico con il parcheggio subito ridosso delle mura quindi un'intenzione molto importante per un percorso di circa 400 metri quindi sarà uno degli impianti più lunghi a livello regionale mai realizzati ed ora parliamo di uno degli eventi con la e maiuscola in vista di pesaro capitale della cultura 2024 ovvero il roff il rossini opera festival che dall'11 agosto apre il sipario sulla 44esima edizione che sarà interamente concentrata alla vitrifrigoarena a otto giorni dall'apertura del sipario su eduardo e cristina che inaugurerà la 44esima edizione della rossini opera festival fervono i preparativi nel backstage della vitrifrigoarena dalle scenografie del palco agli attrezzisti dalle sartorie al trucco maestranze al lavoro per un roff 2023 che concentrerà i tre titoli delle produzioni nell'astronave che da sede alternativa è divenuta sede obbligata a fronte dei lavori al teatro rossini prorogati al periodo autunnale un'edizione 2023 che era stata pensata a teatro ma che si è rimboccata alle maniche per ripensarsi negli spazi dell'arena anche in altre circostanze abbiamo risolto sempre con una seconda programmazione in tempi veloci ricordo quella del covid dove abbiamo fatto all'aperto tutto praticamente le capacità dell'arena sono tante per cui siamo contenti di poter offrire al pubblico le tre spettacoli qui titoli che si concentreranno alla scoperta del cosiddetto rossini serio dall'apertura dell'11 agosto con la nuova produzione di eduardo e cristina per proseguire con la ripresa di aureliano in palmira e poi l'altra nuova produzione di adelaide in borgogna e poi il consueto viaggio a rems dell'accademia rossiniana un fitto programma di sette concerti al teatro sperimentale prima della chiusura del 23 agosto con la petite messe solenelle l'opera inaugurale che si vedrà per la prima volta qui al roff la 39esima del catalogo ufficiale di rossini ma anche aureliano in palmira che è una ripresa della produzione di mario martone si è vista una sola volta e adelaide di borgogna una volta in forma di concerto e una volta in forma scenica per cui tre sorelle un po dimenticate ecco che noi presentiamo perché pensiamo che è missione del roff far conoscere bene rossini e soprattutto di genere serio intanto è un rossino opera festival che si avvicina alla rassegna riscuotendo un entusiasmo tiepido al botteghino non sono al di sotto delle nostre aspettative noi siamo stati prudenti e devo dire che rispetto all'anno scorso già si è una una cosa un pochettino più contenuta ma che riflette uno stato generale non dovuto a noi non dovuto alla nostra programmazione ma il momento di difficoltà economica un po di tutti sebbene qui per esempio la parte che costa di meno è più che esaurita insomma sono sono elementi da tenere in considerazione anche per il futuro e a precedere il roff di un giorno ci sarà il 10 di agosto l'ormai tradizionale appuntamento con candele sotto le stelle per la notte di san lorenzo del 10 di agosto l'immagine del litorale del monte san bartolo torna per la non edizione ad essere illuminata dalla luce di 20.000 fiammelle candele sotto le stelle riaccende l'atmosfera romantica del castello di gradara e i 7 chilometri di costa con più di 80 stabilimenti balneari tra pesaro e gabice mare che si coloreranno di bianco in piena condivisione con il dress code della serata è un'edizione attesa attesa appunto perché è l'appuntamento non solo più glamour se vogliamo ma anche più partecipato anche più popolare allo stesso tempo e non è facile tenere insieme questi elementi della dell'estate quest'anno avremo anche il contorno della della ruota fare da scena di ulteriore in bianco alla alla notte in bianco delle candele e la partecipazione confermata appunto della riviera del san bartolo dal punto di vista musicale diverse novità in particolar modo su pesaro avremo questa liaison che si conferma dopo il caterra d'uno con l'orchestra casa dei questa volta con l'orchestra avion travel quindi capiamo anche un concerto veramente di qualità veramente importante altri momenti musicali come ad esempio la pizzica e altri e altri spettacoli che verranno distribuiti nel lungomare noi di solito ci organizziamo ci troviamo alle sei alla zona della palla di pomodoro e da lì dopo ci dividiamo i vari compiti tra i volontari e si parte comunque all'incirca per le sette e mezza otto le candele sono tutte accese per l'evento e quest'anno ci sarà come l'anno scorso in la zona sempre della palla di pomodoro lì a di accendere alla palla di pomodoro la scritta con le candele pesaro 2024 è un appuntamento importante è un appuntamento molto atteso da tutti i turisti della cittadinanza ormai è una consuetudine la notte porta porta anche elementi di magia a pesaro quindi quest'anno pensiamo sia un'ottima un'ottima edizione molto coinvolgimento anche l'associazione è parte attiva quest'anno dell'iniziativa quindi abbiamo grandi attese ed ora parliamo di mira al teatro d'estate la rassegna di spettacoli in corso al parco mira al fiore dopo il rinvio delle 22 luglio arriva finalmente a pesaro nino frassica accompagnato dallo splag s band gruppo di straordinari musicisti con cui sta confezionando il tour 2000 barra 3000 l'appuntamento è per il 6 agosto alle 21 e 30 con un'operazione di memoria musicale sotto la forma di un coinvolgente concerto cabaret con un ripetore formato da oltre 100 brani riviste corretti in cui canzoni famosissime pur mantenendo la propria identità sono tagliate e ricucite alla maniera di frassica parliamo di sport e sarà una domenica di sport in particolare a carpegna con la storica gara podistica giro del monte carpegna che fa parte del circuito provinciale correre per correre e che percorrerà 16 chilometri fra l'anello su asfalto che sale sul monte carpegna dal cipo fino al passo marco pantani per poi rientrare in paese dal passo cantoniera non solo ci sarà anche la ciclo turistica del circuito mtb marco e cap per mountain bike e bike fra monte carpegna e villa grande di monte copiolo e parliamo anche di pallavolo perché oggi è stato reso noto il calendario della regular season del campionato di serie a 1 femminile 2023 2024 la megabox valle foglia giocherà quest'anno le sue partite a pesaro al padiglione di del quartiere fieristico di campanara che verrà ribattizzato pala megabox il campionato comincerà domenica 8 ottobre con le tigri che ospiteranno a pesaro la roma volley cup stagione che si chiuderà nuovamente in casa con il vero volley milano il 24 di marzo e torniamo a parlare di appuntamenti lo facciamo spostandoci a fano perché arriva il 17 agosto il paese dei balocchi e tu di che talento sei questa la domanda e l'esortazione rivolta bambini e bambine che lega il filo conduttore della diciannovesima edizione delle paese dei balocchi che torna bellocchi di fano dal 17 al 20 di agosto un'edizione che come di consueto sarà aperta dalla consegna della fascia tricolore al sindaco del paese dei balocchi dopo luca barbarossa quest'anno sarà il turno di pino insegno che salirà sul palco come protagonista dell'appuntamento inaugurale giovedì 17 agosto alle 21 15 il 17 agosto io sarò io il nuovo sindaco del paese dei balocchi pino insegno il sottoscritto e staremo insieme piccoli grandi medi passeremo delle belle ore insieme vi abbraccio tutti e non vedo l'ora ciao diciannovesima edizione che il presidente del paese dei balocchi michele brocchini ha presentato oggi alla mediateca montanari e che vedrà ospite anche il giornalista luca pagliari durante il venerdì sera di una rassegna che come sempre metterà al centro laboratori creativi e ludici giochi di ruole da tavolo e ancora teatro musica danza e la ludoteca itinerante il tutto accompagnato sempre da grande attenzione ad ambiente sostenibilità e mangiare sano e concludiamo il nostro telesornale restando a fanoma occupandoci di teatro andando a scoprire quello che il programma della stagione 2023 2024 delle teatro della fortuna uno spettacolo in più è una parata di stelle la prossima stagione di prosa proposta al teatro della fortuna di fano sarà probabilmente la più ricca e ambiziosa degli ultimi anni tanti i volti noti del piccolo schermo dalla fiction agli spettacoli comici contesti di alto livello e l'immancabile appuntamento per gli amanti della danza un ricco cartellone che si svilupperà da ottobre fino al prossimo aprile nato dalla sinergia tra la fondazione teatro della fortuna e amat con il contributo del comune di fano della regione marche e del mic la proposta di quest'anno intanto la novità è che da 7 passano 8 gli spettacoli che sono in cartellone ce n'è per tutti i gusti perché abbiamo veramente ragionato anche durante l'anno con il nostro pubblico per capire quali i titoli per poi riportare la gente al teatro perché è vero dopo la pandemia siamo ritornati quasi ai numeri della pre pandemia però ancora un po' di lavoro c'è da fare soprattutto rivolto ai giovani abbiamo pensato questa stagione in maniera in qualche modo anche complementare con quella di Pesaro che abbiamo chiamato stagione capitale perché in realtà anche questa è una stagione capitale perché come sappiamo la candidatura di Pesaro è stata presentata per un territorio in particolare pensando a una città come Fano con cui c'è una grossa contiguità non solo geografica ma anche culturale cominciamo con uno degli attori più amati della scena italiana siamo molto felici perché Lino Guanciale è un grandissimo attore di teatro che poi ha avuto una grande riconoscibilità anche in televisione amatissimo devo dire siamo molto felici che quando la televisione serve ad illuminare un talento come in questo caso e con lui apriremo proprio con questo uomo più crudele del mondo in cui assieme a Francesco Montanari altro attore di grande forza lo ricordiamo per il romanzo criminale porterà in scena una nuova scrittura di Davide Sacco. Proseguendo con una proposta in questo caso ancora più letteraria perché è da un bellissimo romanzo di Kent Aruv, Le nostre anime di notte, che Lella Costa ha tratto questo spettacolo con la regia di Serena Sinigallia e Elia Shilton, uno spettacolo davvero di grande fascino perché è l'incontro tra due persone mature ma la dimostrazione che non si può smettere mai di amare perché è quello che il nostro cuore desidera insomma. Poi uno degli spettacoli più forti, più potenti della stagione come testimonia l'invito dei più grandi teatri italiani uno sguardo dal ponte con un grandissimo massimo popolizio ma devo dire un grandissimo cast e poi largo al divertimento avevamo ospitato Solenghi Lopez al teatro di Pesaro questo dove eravamo rimasti è una specie di gioco con gli spettatori e questo duo a cui ci manca sempre la donna che la ingentiliva ma che è sempre nei loro cuori e devo dire che il pubblico ama moltissimo giustamente questa comicità sempre elegante, mai volgare e siamo molto felici di portarli appunto col nuovo lavoro. Continuiamo a proporre danza, l'athletic dance che il pubblico di fan del territorio ama molto lo facciamo con la compagnia italiana più famosa da questo punto di vista che sono i Cataclò con Back to Dance, un bellissimo lavoro di sintesi dei loro percorsi e poi spazio ancora al grandissimo teatro, uno dei più grandi interpreti e registi italiani Gabriele Lavia che torna a un classico, un classico abbastanza particolare perché poco frequentato un curioso accidente e un Goldoni che ha bisogno di avere una bella idea di messa in scena come Lavia ha avuto in questo caso. E poi a chiudere gli ultimi due appuntamenti guardiamo alla contemporaneità lo facciamo con Geppi Cucciari con un testo devo dire bellissimo dedicato alla femminilità perfetta, è l'ultimo testo di Mattia Torre, un autore che ci ha regalato davvero bellissime storie con la capacità di leggere il presente e così come è capace di fare Ivan Cotroneo l'abbiamo visto al cinema, l'abbiamo visto in letteratura, tutti pazzi per amore in questo caso con un grandissimo Massimiliano Gallo assieme a Fabrizia Sacchi in questo Amanti che è una commedia appunto nata da poco che racconta il presente ma anche in questo caso si intreccia appunto i temi eterni come quelli dell'amore, insomma una stagione che parla di tanta vita. Prima del contenuto però serve il contenitore. Siamo in grande fermento anche perché come sapete ci sono i lavori a teatro, i lavori procedono come sapete è efficientemente energetico, noi seguiamo passo a passo. Devo ringraziare veramente l'amministrazione comunale, soprattutto l'assessore Brunori, la Sara Cucchiarini, l'assessore a cultura e il cora fattori perché insieme veramente un gruppo di donne, per cui qualcuno si può anche spaventare un po', però un gruppo di donne che sta giorno per giorno mettendo a punto tutto, seguendo i lavori e tutto il resto. E si conclude qui questa nostra edizione della telegiornale Rossini News ma come di consueto prima dei saluti vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente in questa serata di giovedì 3 agosto che comincia subito dopo il Tg alle 20 mostrandovi il nostro speciale realizzato in occasione della gara ciclistica Gran Premio Gara delle Pesche a Montelabate, una rassegna inserita dentro la 77esima Sagra delle Pesche di Montelabate, ciclismo riservato alla categoria esordienti di primo e secondo anno. E poi ve l'abbiamo mostrato sera per sera, siamo arrivati all'atto finale, quello del Festival Canoro, del Festival Gallo d'Oro, questa sera alle 21.20 vi mostreremo tutta la serata conclusiva e i premiati di questa 51esima edizione della rassegna. E poi vi ricordo l'appuntamento consueto con Rossini, con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa che vi tiene compagnia dal lunedì al sabato con la lettura e la consultazione dei quotidiani locali, come sempre in diretta a partire dalle 7.20. E dunque vi aspetto domattina con Buongiorno Rossini, mentre per quello che riguarda Rossini News siamo arrivati alla conclusione. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.